...operatori privati e speculatori. Tratteremo in breve la storia del Forex, la sua funzione nel mondo del commercio e del turismo globali, ma soprattutto cercheremo di capire come funziona la compravendita di valuta, la terminologia e soprattutto come si fa ad aprire una posizione. Nel settembre del 1992 mi preparavo a cominciare i miei studi universitari in Inghilterra. Avevo messo da parte dei risparmi in corone danesi e sapevo a quanto più o meno ammontavano in sterline inglesi. Giovane e inesperto, non sapevo invece quello che stava succedendo sui mercati mondiali. Praticamente, nello stesso momento in cui entravo in banca per dare disposizioni di convertire i risparmi di una vita, da corone danesi a sterline inglesi, si consumava il dramma tra la banca di Inghilterra e il leggendario George Soros. Il resto, come si dice, è storia. Eppure, mentre la sterline inglese cadeva in disgrazia, in quelle fatidiche ore del settembre 1992, riuscì a guadagnare il 20% sul cambio delle mie corone danesi in sterline inglesi. È proprio vero quello che dicono gli operatori. Il tempismo è tutto. Prima di passare alla sezione dedicata all'apertura e alla chiusura delle posizioni sul mercato del Forex, sarà opportuno trattare gli elementi essenziali della compravendita di valuta. Il mercato globale dei cambi valutari è il più grande mercato esistente al mondo, con un fatturato giornaliero che supera i 3.000 miliardi di dollari. Questo fatturato è il risultato di un alto numero di operazioni effettuate con coppie di valuta. Le operazioni sui cambi presumono lo scambio di valore del denaro in un paese al valore riconosciutogli in un altro paese. Per esempio, se decido di comprare euro, posso farlo pagando in sterline inglesi. Tutte le operazioni si basano sulla combinazione di due valute, chiamata coppia o incrocio di valute, cui una sarà la parte lunga, acquistata, e l'altra la parte corta, venduta.